Un approccio diverso sul tema del contrasto alla dispersione scolastica che mette le istituzioni al centro, anziché affidarsi, come in passato, ad iniziative progettuali esterne o complementari ai tempi della scuola. Sono le nuove linee di indirizzo per la prevenzione della dispersione scolastica del Comune di Napoli. La dispersione sta diventando un problema paese, perché non riguarda più città come Napoli, ma riguarda in generale tutte le grandi realtà urbane. Proporre un modello alternativo alla scuola una seconda opportunità, è un modo per dire implicitamente che la scuola non ce la fa, che la scuola fallisce. E quindi è una sorta di accettazione passiva di questo fallimento. Le cose non stanno così. La scuola se non ce la fa è perché non è sufficientemente supportata. Quindi le linee guida sono una cornice all'interno della quale poi il Comune impiegherà i fondi della 285 per mirarli su progetti costruiti insieme alle scuole. Saranno coinvolte le scuole che agiscono sui territori con il più alto tasso di evasione, a partire da Chiaiano, Rione Traiano, Sanità e Poggio Reale, con la sperimentazione della progettazione partecipata di spazi pubblici da parte degli studenti ed attività con studenti e famiglie rivolte agli adolescenti delle scuole medie e superiori. Sono temi strettamente legati al disagio sociale e pertanto il progetto è costruito in sinergia con gli interventi del welfare. Pur in una situazione di difficoltà abbiamo trovato le risorse per un tema che noi consideriamo assolutamente prioritarie. Pur in questa situazione di difficoltà siamo l'unico Comune d'Italia che ha aumentato la spesa sociale, non l'ha tagliata, contrariamente a quello che si sono nel frattempo cimentati a fare la Regione Campania e il Governo nazionale. Perché se si può e si deve scrivere la prima pagina del libro dello sviluppo della ripresa economica di questa città, bisognerebbe mettere in cima a quella pagina la lotta alla povertà e la lotta alla dispersione scolastica e quindi sosteniamo le scuole perché possono fare meglio il proprio mestiere e le famiglie, le famiglie multiproblematiche che sappiamo essere il luogo che genera, causa il disagio e le difficoltà e anche quindi teatro della dispersione scolastica a partire da quartieri più difficili.